Ecco come farlo innamorare di te usando soltanto un uovo Fate un buco esattamente in questo punto dell'uovo Si dovrà creare un piccolo buco ma dovrà rimanere intatto Svuotiamo l'uovo Procuratevi due bigliettini Nel primo scrivete il vostro nome Nel secondo quello della persona che deve perdere la testa per te Piegate il primo bigliettino e pronunciate queste parole Il mio cuore diventa un nido d'amore E mettetelo dentro l'uovo Ora piegate il suo nome e dite il tuo cuore in trappola in una via d'uscita Unitelo all'altro bigliettino E quando mi vedrai del mio cuore impazzirai